Sicuramente lavoro, che i contratti non siano più rinnovabili, comunque 5 mesi, 5 mesi, 6 mesi, che ci siano comunque più possibilità per i giovani di lavoro e anche e soprattutto le pensioni, perché ovviamente ci pensiamo noi giovani alla pensione. Una cosa che nessuno ne parla, ma anche comunque, visto che la famiglia è tanto sacra, ma parliamo anche delle domeniche lavorative, che comunque spesso si lavora la domenica. Tema di sicurezza, sviluppo economico, ordine sociale. Vorrei più serietà e che facessero più l'interesse del cittadino. Innovazione, non sento ancora nessuno che stia parlando di questo. Futura innovazione è un po' di parole spente sui giovani, forse, non farebbero mai neppure quelle. Ma direi un aiuto particolare alla famiglia, perché vedo tante famiglie in difficoltà e penso che secondo me la famiglia sia ancora al centro della società. Lavoro sicuramente, in primis, non so, poi sicurezza. Secondo me ne stanno parlando, ne trattano oppure? No, un po' meno, no. Più che altro, secondo me, stanno in questo momento pensando di, non so, di risolvere le beghe all'interno di ogni singolo partito, ogni singola coalizione. Della gente, dei problemi della gente e niente altro. Solo dei problemi delle persone. Ed invece, secondo te, come stanno andando? Niente, stanno barando, come sempre, come al solito. Stanno dicendo un sacco di fesserie. Tu riesci a capire cosa vogliono darci? Per cui, guarda, non ho nessuna domanda da fare, purtroppo.